All I do is win, 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 no matter what, got money on my mind, I can never... Please don't stop the music, music, music Please don't stop the music, music, music Wow, 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 great amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale di Switching Music ragazzi Oggi siamo qui con un video un po' diverso, sempre in B2K6C ma leggermente diverso perché andremo a trattare la mia squadra Perché? Perché ragazzi ho visto tante tante novità quest'anno e vorrei portare una bella serietta anche su questo, parallela diciamo alla MyCareer Non gasa neanche tanto questo video Che figato ragazzi Ah, allora è ora di iniziare a creare la tua squadra, seleziona un pacchetto iniziale Sono 21 carte di ogni squadra Beh ragazzi di sicuro non sceglierò i Knicks, no? Cioè, prenderò una squadra forte, cazzo, c'è tipo i Warriors Dai, scegliamo il pacchetto iniziale Warriors e vediamo che succede, non mi aspettavo questa cosa Oh, oh, pacchetto Scopri tutte Gigione, 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 grandissimo gigione Gregorio per i Jones, Kevin Looney, chi cazzo è? La divisa ospite del Barcellona, così Leandrino Barbossa, Jim Fredette, il campo dei Targa 7, lo sistema dei Warriors, quanti pacchetti ho, la madonna John Salmon Il Salmone, signori Che signori giocatori che stiamo trovando Ok, signori Eccoci qua Questo mi aspettavo di trovare Comunque, questo è il nostro quintetto titolare per ora No, 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 no Questo è il nostro quintetto titolare Sto gran cazzo Allora ragazzi, il nostro quintetto è diventato questo Perché abbiamo trovato da Tome, ragazzi Non si può non avere un quintetto Diventerà il pilastro della nostra fottutissima squadra, signori Gigione, Jesus da Tome Questo episodio già epico Questa cosa merita 77.000 mi piace Fatto sta, anche adesso voglio chiedere un parere a voi Perché qui di gioca ci sono tante cose da fare C'è la sfida Ovvero, avviando una serie, la sfida Non potrai cambiare questi 10 giocatori per il numero massimo di 10 partite Vuoi continuare? E qui praticamente si fanno delle sfide in cui ti scommetti i giocatori tra di loro Poi ci sono le partite speciali Che sono queste Ovvero, pronti alla partenza L'erba del bronzo La gioventù L'acca per capelli L'acca per capelli Vabbè Che ovviamente sono sempre più difficili E si sbloccano un po' alla volta Vedete, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5 E ognuna ti dà delle ricompense parecchie o gustose Quindi ragazzi Una possibilità è questa Semplice, semplice C'è dominio Che questa forse è quella un po' più noiosa Quindi magari questa me la gioco per conto mio Ecco, diciamo Poi c'è questa La strada per i playoff Che potrebbe essere un'idea online Questa, signori, da giocare Oppure, signori Quello che ho pensato io È fare Sulla stampo Della serie fantastica Di Just Strong FIFA obiettivi Un NBA A obiettivi Cioè Voi mi consigliate nei commenti Io scelgo per gli affari miei E poi li mescoliamo Degli obiettivi da fare In due partite Racchiuso in uno stesso video E poi Apriamo pacchetti Chiudiamo cose Facciamo Miracoli E cose varie Che potrebbe essere una bella idea Quindi ragazzi Aspetto un vostro commento Un bel mi piace Per dirmi cosa ne pensate Di queste idee Allora Intanto ho visto che Abbiamo delle ricompense Da aprire Se non sbaglio Esattamente Pacchetti per notazione Allora Pacchetto bonus tutorial Intanto Andiamo a girare il pacchetto E troviamo Geoffrey Laverne Bella Menta Perfetto Ok Adesso abbiamo tre pacchetti Per la prenotazione Un super pack opening Per cominciare Incredibile Ah C'è un coso d'oro E tutto il resto d'argento E che mi piace Giriamo Ah Isaiah Thomas Signori Tanta roba Isaiah Thomas Qui ci sono parecchi bronzi Quindi non troveremo niente Non voglio vedere Gira tutto Ditemi voi Che è successo Beh 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 Scarpe Marcus Mart Che non è male Stiamo trovando solo Playmaker Dai Celtics Però va bene Così Continua Poteva andare peggio E l'ultimo pacchetto Signori Dove troveremo Michael Jordan Eccolo qui Lo sento E lui proprio Meglio Meglio di Jordan Meglio di Jordan O fa lo strano Danilo Gallinari Signori Mamma mia No vabbè Fermi tutti Oggi ho trovato due italiani In quattro pacchetti È tipo impossibile Eccoci qua signori Guardate che Che Mamma mia I big two Luigi D'Atome E Danilo Gallinari Mamma mia Adesso si trova il belly Veramente Sbrocco Mamma mia Di brutto Allora ragazzi Questo era giusto Un video introduttivo Molto breve Senza niente di che Poi in realtà Abbiamo trovato giocatori Che mi fanno andare fuori Di testa Comunque Quindi è andata Meglio del previsto Decisamente Come vi ho detto Le opzioni sono queste Sono La sfida Le partite speciali Il dominio Lasciamo no E la strada per i playoff Modificata da me Con gli obiettivi Quindi fatemi sapere Cosa preferite Io Lascio a voi Se potessi scegliere Farei L'NBA obiettivi Perché mi parla Un'idea un po' più originale Che prendere Semplicemente Giocare queste cose Poi se c'è qualcosa di bello La giochiamo lo stesso Tanto Quest'anno Si portano video di NBA Rubio Così Detto ciò signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Un bel commento Ovviamente Come ho già detto prima Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto Per vedere la MyCareer E questa serie Che sarà in arrivo Nei prossimi giorni Ci vediamo Al prossimo video Bella